Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, di nuovo diverso dal solito, ma attenente a Yu-Gi-Oh! Oggi presenterò un piccolo tutorial su come registrarsi sul sito e su come utilizzarlo, dato che diversi utenti, ho visto anche e soprattutto su Facebook, hanno avuto difficoltà sull'utilizzo, su come utilizzare questo sito Allora, la schermata iniziale è questa come vedete, noteremo subito username, password, login, register, forgot password e donate Se cliccheremo, se cliccate su donate, darete i vostri soldi allo staff di Duang Network, non alla Konami perché non è il simulatore originale loro, vabbè basta con questi soldi Allora, per registrarsi basterà cliccare qui su register e semplicemente inserire l'username che volete mettere, che deve rappresentare il vostro utente Che ovviamente deve essere diverso da quello utilizzato da un altro utente Password, vabbè, la password è email che sarà necessaria per confermare il vostro account Per crearne una potete anche utilizzare quella Gmail, ossia quella del vostro canale YouTube Crearne una su Outlook, molto velocemente, o più attenente a Yu-Gi-Oh! su Virgilio Dopodiché, clicchiamo su register Dopo che vi avranno mandato l'email, qui dentro sarà contenuto un codice che dovrete mettere al vostro primo login Quindi, non allarmatevi né niente, si tratta solo di verificare il vostro account Una volta che avrete effettuato l'accesso, questa sarà la schermata che vi apparirà Ossia il menu principale, dove noteremo subito dual room, rankings, my profile, deck constructor, profile viewer, exchange password E infine, vabbè, exit per uscire Prima di cominciare a giocare, ovviamente, dobbiamo creare il nostro mazzo, quindi cliccheremo su deck constructor In questo caso io ho già un mazzo fatto, quindi per crearne uno nuovo, e voi non ne avrete nemmeno uno Se è la prima volta che fate il login Cliccate su new deck Chiamiamolo dntutorial Giusto per farvi capire Ok, la schermata è vuota Lo spazio blu indicherà il vostro main deck, quindi il mazzo principale Il mio consiglio è giocare sempre 40 carte, vabbè, questo è al di fuori il dual lane network Che è un consiglio da giocatore Se siete poco esperti Side, lo spazio verde E extra, lo spazio rosa Se non l'ho detto prima, vi dico che per giocare a dual lane network è richiesto una certa conoscenza dell'inglese Perché il sito è interamente, appunto, in inglese E infatti i nomi delle carte che andremo a cercare dovremo scriverli in inglese In questo caso metto red ice per farvi un esempio E appariranno tutte le carte che conterranno il loro nome red ice Vabbè, inseriamo questo è limitato Se volete inserire più copie, però, non potrete fare partite classificate in questa maniera Se usate carte che sono, come dire, non sono presenti nell'hab Non sono permesse nel gioco Per esempio, red ice è limitato Lo gioco in 3x Non posso giocare in partita classificata Vabbè, questi sono esempi Cliccando qui è possibile fare questa cosa Però noi, diciamo, dobbiamo fare la partita classificata e quindi accumulare punteggio Vabbè, su name dovrete mettere il nome della carta in inglese O almeno una parte del nome Desk dovrebbe essere description E qui, diciamo, sono dei filtri di ricerca Quindi monster spell Per fare un esempio Monster, vogliamo cercare un mostro rituale Di tipo bestia guerriero Vabbè, qua non mettiamo niente E vi appariranno tutti i risultati Tutti i risultati, in questo caso nulla Perché ho scritto pullstar qua Ecco Vi appariranno tutti i risultati Ossia uno L'icantropo Che lo mettiamo pure nel mazzo Vabbè E... Allora Per salvare il mazzo Dovrete cliccare su save deck Oppure se volete salvarlo con nome Save deck as Save deck, diciamo, viene più utilizzato Quando fate delle modifiche al mazzo Tipo Togliamo l'icantropo Faccio save deck Ok, sta salvando Ecco Deck dn tutorial E' stato salvato Ehm Se cliccherete su set as default Vuol dire che questo sarà impostato come mazzo principale per i duelli E quindi non dovrete cambiarlo nell'opzione due del room Vabbè Poi vi farò vedere Clear deck invece Se clicchiamo Vedete Svuota il mazzo Se possiamo dire così Rename deck Per rinominare il mazzo Dn tutorial x lo chiamiamo Guardate E niente Vabbè Penso di aver detto tutto Riguardo questa schermata Ora andiamo ad analizzare Profile Weaver Su Profile Weaver Vedrete Diciamo le vostre statistiche Il vostro ratio Ecco Tipo In match Ho 130 vittorie E 31 sconfitte In singolo Ho 1105 vittorie Wow E 541 perse Drowse sarebbero i pareggi E in questa schermata Potremmo cercare In questo caso metto sketch Alcuni di voi li conoscono Ecco Offline da 5 giorni E potremmo vederlo nella nostra lista Qui Vabbè Dovrete fare ad friend Niente Qua non c'è molto da dire Su questa schermata Andiamo a vedere Su My Profile Per modificare la vostra interfaccia Su My Profile Potete mettere la descrizione Del vostro profilo Tipo No in questo caso E' Dici adias Ecco E potete cambiare L'immagine Ovviamente Più accumulerete Vittorie Più avrete Delle immagini Cioè Sbloccherete Sbloccherete Delle immagini Ottenendo vittorie E Vincendo Avremo anche Un aumento Del rango Mi sembra che si chiama Rango La La cosa a destra Vabbè Vedete Andando avanti No esperienza Ecco Queste bustine Richitano 2000 Di esperienza Dato che il caricamento Sta Cioè Sta troppo a caricarsi Non ve le mostro Però qui potete Modificare Il Vostro Profilo E fare Su save Io probabilmente Faccio no Perché Non so che ho combinato Vabbè Ora Vabbè Rankings Per vedere La classifica Dei giocatori Niente di che Guardate I migliori giocatori E Profiliever Ve l'ho detto Change password Per cambiare Appunto La password Ora Andiamo a Vedere Duel Room Ok Questa è la schermata Che ci appare In duel room Noteremo Subito Queste tre tabelle Ce n'è anche Una quarta Nascosta Allora La tabella Blu Influirà Sul vostro Punteggio E utilizza La Banned Odierna Avanzata Così come La Verde Però La differenza Fra queste due È che La blu Influirà Sul vostro Punteggio Ed è Classificata Vabbè Qua Language English TCG OCG Se si pronuncia Così Ho fatto la rima Fuck yeah E Praticamente Lo CG Come se avete Il Giappone E Ci sono anche I mazzi Giapponesi Dual type Match Quindi Due Partite Consecutive Se Le vincete Tutte e due Non c'è la Bella E Singolo Vabbè Una partita Singola E come vi ho detto Prima Vedete qui Potete scegliere Il vostro mazzo E Set as default Come vi ho detto Prima Utilizzate di nuovo La stessa parola Il mazzo Principale Che avete Scelto Quest'opzione È presente anche In Duel Room Vabbè La tabella verde Già ho detto Scusate Rutto Ecco E La tabella Della tabella verde Ho già detto In proposito La tabella rosa Utilizza il formato Tradizionale Della Banned Oderna E Unlimited Quindi questa qua Grigia Utilizza Diciamo Non utilizza Banned Quindi potrete Mettere tutte le carte Prebite Che volete Cioè potrete Utilizzare tutte le carte Prebite Che volete Non so se mi sono Ben spiegato Per ostare una partita In classificata Non è più possibile Farlo come una volta Ma possiamo Ostare Qui Ecco qua Cioè vedete Clicco Sto Duel Vabbè Vabbè Sta caricando Appena Verrà L'utente Fate Accept User E Rejecting Sarebbe Per Spellerlo Duel Duel Not Tipo Mentre Osto Vedete Qua c'è scritto Gay E Verrà appunto La scritta Tipo Che ne so Volete invitare un vostro amico Dici Amico Vieni qui Duel password E Praticamente Serve Se un utente Clicca Sul Vostra Richiesta Di Duello Dovrà mettere La password Che inserirete Voi Tipo In questo caso Ciccio Sarà la password E se non metterà Ciccio Non potrà Accedere Diciamo Alla Vostra Richiesta Di Duello Vi auguro Di aver detto Tutto Sul Sulla Schermata Di Duel Room Ora Passiamo A una Simulazione Di Duello Su Dueling Network Con la mia Ragazza